aiuto simo aiuto 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 scusate cosa è appena successo praticamente il sottoscritto il sottoscritto cioè te no il sottoscritto indicando lui qui a mio fianco lui ha chiesto a un cameriere se le patate al forno hanno anche un contorno no il cameriere naturalmente gli ha risposto di no guardate la faccia dell'immigità è sconcertata di se stesso no e perché hai fatto questa domanda perché credeva gli mettessero delle insalate dei pomodori cioè lui la cosa era se le patate al forno avessero ulteriormente un contorno a sé solo che sono già loro il contorno ci siamo persi lui sta guidando la mia macchina fa schifo io sto mangiando una banana perché essendo celiaco non devo mangiare glutine lui non mi sopportate chi è lui tu meglio che non parli anche tu voi due non mi sopportate più e poi stiamo provando a ritornare non diciamo perchè sta musica perché non ci piace a noi saluta Antonio ehl ecco questa sera Per compa del mio amore Per compa del tuo amore Ai nostri dolori Oh sono le 7 del mattino Sveglia Allora è pieno di americane Non so se venire da voi o seguire loro Boh Non so se ti può attaccare A bottone da solo Si stanno formando Non lo so Stanno guardando strano Tipo parano Sono nella mia strada Loro sono sulla loro strada Sono un bel po' di mucchi Le seguo Dove vanno Aiuto Simo aiuto 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 Simo A presto A presto A presto A presto Grazie a tutti.